Premetto che quello che sto per dire sono delle mie riflessioni del tutto personali, quindi come tutte le cose personali sono opinabili e discutibili, anzi è bene se si crea intorno a queste una discussione, perché in questo video volevo parlare della cultura. Essendo la cultura è diventata un tema centrale, per esempio in questo momento, in cui si chiudono determinate attività e tra queste attività si chiudono cinema e teatri e sale da concerto e quindi luoghi di cultura. E allora il nome della cultura si cerca e si vede come ovviare ai danni che queste chiusure comportano. La mia riflessione però voleva essere di capire se di questi tempi i luoghi di cultura sono poi soltanto questi, insomma, o se forse è il caso anche di rivedere un attimo come si articola nei vari momenti, nei vari luoghi la cultura al giorno d'oggi e capire se magari c'è anche qualcos'altro che si può fare per la cultura, se effettivamente è la cultura che si vuole salvaguardare. Per adeguare, insomma, anche la fruizione della cultura ai tempi nuovi, insomma, e agli strumenti diversi che ha la cultura per manifestarsi. Parto da lontano, per esempio. Non so, ma io credo che la televisione, quando io ero bambino, ha fatto un'opera di cultura. Quando ha fatto gli scenizzati televisivi e ci ha fatto conoscere Dostoievski, appuntati, i fratelli Karamazov, i demoni, se voi vi ricordate. Oppure c'era una serata della settimana quando c'era un solo canale alla televisione che era dedicata al teatro e sono passati autori famosi, interpreti famosi, quando ha fatto Megre, per esempio, Gino Cervi, che interpretava il commissario Megre, Simeon, per stare anche in un ambito di cultura che è anche intrattenimento, in qualche modo. Ha fatto cultura quando Alberto Manzi, il maestro Alberto Manzi, ha fatto Non è mai troppo tardi, ma insomma, allora, l'analfabetismo in Italia era ancora molto grande e quindi ha fatto una grande opera di divulgazione o di formazione, anche culturale, anche Alberto Manzi, per tutti gli adulti che erano ancora analfabeti. Oggi c'è comunque ancora un grande analfabetismo, che è l'analfabetismo che riguarda non tanto la capacità di scrivere o di leggere, ma quanto di comprendere quello che si legge o quello che si vede, insomma. Quindi la capacità di comprensione di un testo, di lettura, nel senso di quello che si poi riesce a capire, di quello che si legge. E quindi, forse anche da questo punto di vista, insomma, un'attività di formazione è ancora interessante, è ancora importante da fare. Quindi la televisione è stata anche uno strumento di cultura. Adesso forse lo è sempre un po' di meno, almeno per quello che riguarda le reti ufficiali, insomma. Il concetto di cultura sta anche, si è evoluto, secondo me, in qualcosa che riguarda sempre più l'intrettenimento rispetto alla cultura. Insomma, la qualità delle opere, dei prodotti culturali che vengono trasmessi, insomma, almeno da parte dei media, è progressivamente scaduta, perché si è adattata ai gusti del pubblico, che sono sempre più retrocessi, diciamo così, dal punto di vista della qualità. Per mantenere l'ascolto a seguito al pubblico, e da questo punto di vista è sempre retrocessi. Rimangono alcune isole, insomma, no? Alcuni prodotti culturali film di qualità, pochi rispetto alla massa dei film che vengono prodotti e che di culturale hanno ben poco. Diciamo, sono film di intrattenimento. Il teatro forse è ancora di più un'isola di ricerca e di produzione di cultura. Le organizzazioni e le associazioni musicali, insomma, i concerti. Certo, anche in questi luoghi di cultura, che sono poi però dei luoghi privilegiati, perché entrare a teatro, entrare alla scala, o entrare nei grandi teatri, costa. Non tutti se lo possono permettere. Spesso sono un luogo dove una borghesia acculturata si trova, riunisce, anche occasione di incontrarsi, insomma, oltre che luoghi dove si usufruisce dell'opera, ma anche si creano relazioni tra individui, tra persone a cui è interessante conoscerci, perché si scambiano anche affari, informazioni, notizie. Sono rimasti pochi luoghi privilegiati per quella che è la cultura, diciamo, ufficiale, e per anche una certa esigenza anche di cultura. Però questi luoghi sono luoghi di elite e sono luoghi all'interno dei quali è difficile accedere. Molti attori, anche bravi, sono disoccupati. Molti concertisti, anche bravi, sono disoccupati e non riescono a vivere di quello che fanno. Anche in epoca che non è covid, perché in realtà gli individui, le persone, gli artisti che potrebbero dare qualcosa sono tanti, e i luoghi per poter mostrare e poter vivere di quello che si produce, dei contenuti artistici che si producono, sono pochi. Non parliamo poi del settore dell'editoria, insomma, del libro, del libro stampato. Diciamo, gli scrittori che riescono a vivere di quello che scrivono, di quello che fanno, sono pochi. Sono pochi perché, tra l'altro, sono sottoposti a uno strapotere da parte degli editori. Metterò qui sotto alcune clausole di un contratto tipo, insomma, che uno scrittore è costretto a subire da parte di un editore, senza poi che l'editore garantisca anche una distribuzione di questo libro, una minima distribuzione. Magari anche un libro che parla di un tema specifico in una città particolare non riesce a distribuire neanche il libro in quella città, insomma, nelle librerie di quella città. C'è un ricatto, insomma, in qualche modo che gli editori fanno. Tanto è vero che molti scrittori o molti che vogliono provare a cimentarsi con la scrittura, a pubblicare un libro, si devono rivolgere al self-publishing, insomma, all'editoria ad personam. E quindi sono costretti ad assorbirsi un po' le spese che anche il self-publishing comporta e poi a mettersi su un mercato che però diventa talmente vasto in cui non c'è più selezione, insomma, no, perché poi quando uno si pubblica da solo tutto va bene, basta che paghi, insomma, che paghi tutte le varie professionalità che ci girano, l'editor, chi fa le copertine, chi corregge le bozze, chi dà forma l'impaginazione del libro e così via. E anche questo poco garantisce a chi scrive un libro, insomma, e chi quindi ha la presunzione, l'ambizione di fare un'opera di cultura. Molto cerca di spostarsi e molte persone che non trovano spazio poi all'interno dei luoghi dove si dovrebbe produrre cultura e che sono luoghi che rimangono, luoghi dell'it, perché poi i costi anche per fare una produzione teatrale sono enormi, pochi se li possono permettere. All'attore non resta niente in mano, insomma, poi spesso lo fa comunque in maniera volontaristica, insomma, allora solo poche istituzioni riescono magari a stipendiare l'orchestra o a stipendiare chi lavora intorno a un teatro e così via. E quindi per poter fare tutto questo hanno bisogno di far pagare poi una quantità di soldi per il biglietto che pochi se la possono permettere. Oppure ci sono le grandi manifestazioni, i grandi concerti di massa, gli grandi eventi che però richiedono i personaggi, insomma, questi personaggi che poi sono il frutto di un lavoro che ci sta dietro di promozione dell'artista, insomma, un lavoro che poi utilizza la televisione, gli spazi televisivi, le varie trasmissioni che pubblicizzano, insomma, i vari eventi, il festival di Sanremo, insomma, tutte queste cose qua. Alla fine, insomma, la cultura è o diventa un'industria. E come tale, poi la legge è quella del mercato, insomma. E quando si va sul mercato, la bontà del prodotto rischia di influire poco su quello che è invece il guadagno che si deve fare attraverso quel prodotto, come si deve piazzare quel prodotto e quello che deve fornire quel prodotto. Allora, molti attori che, o molte persone, insomma, molti operatori culturali, molte, anzi più che operatori, insomma, molte persone che producono, che potrebbero produrre cultura, lo stesso discorso vale anche per l'arte, no? Per la pittura, insomma, la possibilità di accedere o di fare una grande mostra, insomma, o di fare una mostra e di essere considerato, insomma, anche lì c'è tutto un iter per poter entrare nelle, in quelle magiche situazioni dove poi i prezzi possono salire all'infinito e quindi dopo si può essere remunerati delle proprie opere. Quindi, insomma, la gran parte di chi produce, di chi ha le idee, insomma, è così. Spesso, adesso, in questo tempo, cerca di rivolgersi o prova a rivolgersi anche alle piattaforme, insomma, ai social per poter farsi conoscere, per poter piazzare poi il loro prodotto che magari, nel caso del libro, viene trasformato in e-book e viene venduto in maniera telematica, no? Viene venduto attraverso la rete. Questi libri non vengono neanche stampati, vengono prima comprati e poi viene stampata la copia per fornirla poi a chi l'ha comprata attraverso la rete. E da questo punto di vista, insomma, le piattaforme poi stanno assumendo un ruolo importante. Sta di fatto che o le piattaforme servono per gli artisti come piattaforma di lancio perché poi ambiscono a farsi conoscere in maniera tale da poter poi essere ricercati nel mercato poi dei grandi concerti, dei grandi luoghi dove si producono i concerti oppure o per vendere dischi o per vendere opere, insomma, ma anche il mercato dei dischi, nel caso della musica, parlo anche della musica classica, insomma, cioè di quel mercato indotto di tipo culturale sta venendo meno perché poi, insomma, in rete è possibile trovare molto e quindi meno gente compra il disco, meno gente poi va a teatro e così via. Spesso, diciamo, gli artisti anche affermati usano la rete, mettono i loro prodotti in rete, diciamo, su YouTube perché, diciamo, acquistano una maggiore notorietà e questo acquistare una maggiore notorietà permette poi a loro, permette poi loro di essere poi scritturati per fare dei concerti e per avere accesso ai grandi luoghi, insomma, i luoghi dove si viene pagati. Non è facile, insomma, non è facile la vita per gli artisti. Le regge del mercato hanno fatto sì che pochi artisti che poi per sopravvivere devono sempre essere al meglio, mi riferisco anche al mondo della musica, no? Cioè, adesso sia una grande ricerca del virtuosismo, della capacità di stupire, della capacità di essere personaggi, no? Pochi artisti riescono a vivere, anche a vivere molto bene, insomma, della loro attività. Molti artisti, invece, vengono esclusi da questo mondo e sono costretti a ricorrere alle piattaforme e le piattaforme e i social poi sono costruiti in modo tale che i loro prodotti non vengono assolutamente pagati e quindi fanno molta fatica pur facendo dei prodotti di qualità a vivere, a sopravvivere. E allora si pone un problema, secondo me. Dobbiamo ristabilire com'è, cos'è la cultura e cosa si può fare effettivamente rispetto alla cultura. Se dobbiamo continuare a pagare solo i grandi teatri e quindi a risarcire le perdite di grandi, come dire, di grandi operatori culturali, diciamo così, oppure se dobbiamo ripensare anche a quelli che sono poi i beni intellettuali che vengono messi a disposizione del pubblico e che invece non hanno nessun incentivo. E qui ritorna anche un altro discorso. Ritorna anche il discorso, per esempio, dei diritti d'autore, no? Noi continuiamo a pagare diritti per persone che sono morte 70 anni fa o un po' meno di 70 anni fa e quindi a chi vanno questi diritti? Qual è il rapporto tra chi gestisce la cultura e chi produce poi cultura? Chi fa cultura, insomma, no? Chi effettivamente crea, crea, insomma, quindi produce l'opera culturale. Lo vediamo anche dal contratto che, per esempio, certi scrittori e che posterò qui sotto sono costretti a fare con gli editori, insomma, no? C'è un ricatto, insomma, c'è un ricatto di fondo, insomma, no? Perché poi non è che noi trasferiamo o paghiamo l'opera il bene intellettuale che effettivamente l'ha prodotto, rischiamo di pagarlo in continuazione a un intermediario che poi non fa niente o non ha creato il bene e fa anche molto poco per diffonderlo. E ci chiediamo la logica, insomma, qual è la logica che fa sì che chi ha scritto 100 anni fa un libro e che è morto 65 anni fa continua a ricevere proventi di quello che ha scritto 100 anni fa e ovviamente lui è morto e che quindi li ricevono altri i nipoti dei nipoti magari, insomma, con quale diritto insomma, cosa hanno fatto queste persone per essere gratificate di quello che magari il nonno ha fatto. Insomma, questo è anche una cosa che blocca molti, la gran parte di chi produce beni e produce beni anche di qualità è emarginato dal mondo diciamo ufficiale della cultura, non ha modo di farsi vedere, di farsi apprezzare, di portare alla luce quello che fa. Chi riesce a farlo è in realtà qualcuno che è favorito da tutta una serie di situazioni di organizzazione del mercato che è interessato a mettere in mostra e quindi a far conoscere i prodotti intellettuali di alcuni ovviamente non di tutti di coloro che interessano a quel mercato insomma, che sanno che il mercato sa che va al colpo sicuro magari con quelle persone. Si crea una certa ingiustizia cioè è un po' quello che succede nel mondo globalizzato no? Certa gente ricca diventa sempre più ricca e certa gente povera Rampini li chiama i servi della gleba sono sempre più emarginati e sono sempre più poveri e non riescono a vivere e non riescono neanche a far vedere o far leggere o far ascoltare quello che fanno no? E si devono arrabbattare in qualche modo e devono mettere a disposizione gratuitamente i loro prodotti e anche messi a disposizione gratuitamente i loro prodotti non vengono visti perché i prodotti della cultura sono difficili da usare al mondo d'oggi tutto favorisce lo svago non la cultura lo svago cioè tutto favorisce i prodotti leggeri i prodotti di distrazione quelli che fanno riposare la mente che non fanno pensare almeno diciamo nella gran maggioranza dei casi poi ovviamente ci sono anche coloro che vogliono pensare che vogliono usare i prodotti della cultura ma la differenza tra queste due componenti è sempre più grande no? Basta fare una scemata che crea stupore che crea curiosità e gli ascolti diventano enormi e quindi dietro quegli ascolti magari si riescono a creare anche dei profitti si lavora con entusiasmo si lavora con tenazza si lavora con dietro un prodotto che ha una valenza culturale artistica e non succede niente nella maggior parte dei casi no? Non so anche i mass media e qui per esempio io sono rimasto un po' stupito no? Perché credevo che anche Piazza Pulita no? fosse un programma diciamo serio no? favorisse la cultura insomma la conoscenza l'interpretazione anche di una certa realtà la discussione su una realtà e infatti fa venire Mazzini no? e Mazzini magari fa anche nell'ultima trasmissione che ho sentito no? una grande tirata sul valore sull'importanza della cultura che resiste che ci permette di vivere di resistere di esistere eccetera eccetera teatri magari con poche persone perché contingentate perché seguono tutte le regole anti-covid eccetera e comunque si va avanti perché finché c'è quello finché c'è la possibilità del teatro ancora ancora insomma c'è qualcosa che vale la pena di conservare insomma c'è qualcosa che ancora si motiva a sopravvivere e poi e poi nella stessa trasmissione chiama chiama un personaggio no? che ci fa vedere come la trasgressione no? come l'andare a 200 all'ora come il passare i semafori col rosso come farsi il testosterone come fare si mostra si esibisce insomma no? come esibire la trasgressione come direbbe Recaicati la perversione cioè a tutti i componenti della perversione se volete ne facciamo anche un'analisi in un altro video ma non voglio fare il nome di questo personaggio perché non lo voglio pubblicizzare insomma come un personaggio di questo tipo riesca a interessare no? a essere reso anche tra virgolette simpatico da questa trasmissione tanto è vero che una settimana dopo lo richiamano lo intervistano gli dicono anche che in realtà insomma è anche una persona intelligente ed è un personaggio che fa soldi esibendo la propria nullità la propria trasgressione e si fa le proprie trasgressioni la propria come dire il proprio disprezzo nei confronti della legge delle norme di quello che deve regolare la vita e la convivenza civile insomma è anche una discussione poi intorno a questo personaggio che in qualche modo lo giustifica lo rende lo rende ancora più simpatico personaggi come questi che riescono poi a sfruttare una notorietà così costruita per per guadagnare e per guadagnare cifre assolutamente proporzionate insomma che altri artisti che hanno dedicato una vita al loro lavoro che si come dire che si danno da fare con sacrificio con costanza eccetera non riusciranno mai a guadagnare bene insomma personaggi come questi invece vengono favoriti dalla televisione quando non ne avrebbero bisogno perché quello che fanno è talmente schifoso che riesce ad attirare di per sé la curiosità e quindi le visualizzazioni da parte e le iscrizioni le loro cavolate da parte di migliaia di decine di migliaia di followers e quindi non ne avrebbe bisogno ma in realtà la televisione anche quella va in cerca di quel personaggio per inseguire poi insomma per discutere ma in realtà per poi nuovamente promuovere anche chi non ne ha bisogno anche chi fa cose talmente stupide che si promuovono da sole proprio per la loro stupidità perché siamo alla ricerca non solo della stupidaggine ma anche della trasgressione dell'oscenità insomma e poi la contraddizione in cui poi vive anche il mondo dell'informazione io ho provato anche a scrivere ho provato a scrivere una mail a piazza pulita dopo che ho visto la prima volta questo accostamento tra la cultura diciamo così che viene promossa da Mazzini e diciamo l'esempio che poi viene portato subito dopo con questo con l'introduzione di questo personaggio e ho cercato di scrivere che anche nei social in rete si trovano dei prodotti culturali allora già questi prodotti culturali hanno difficoltà a farsi conoscere per se stessi e gli altri invece vanno per conto loro proprio perché sono stupidi ma se anche la televisione che potrebbe fare qualcosa per vedere chi poi insomma fa un po' di cultura e magari gratuitamente all'interno della televisione cerca invece quegli altri personaggi per promuoverli ulteriormente beh insomma lo invitavo a guardare cosa la rete propone di buono e semmai valorizzare quello che la rete già propone di buono e in maniera gratuita cosa fare dal punto di vista anche del pubblico insomma dello Stato del governo rispetto alla cultura perché si va sempre nella logica poi di finanziare le grandi istituzioni che ovviamente hanno dei costi perché c'è gente che ci lavora sono tutti quelli che noi non vediamo ma che ci lavorano in quel teatro in quelle cose insomma e dobbiamo però vedere cosa cosa producono se la cultura è quello che ci interessa di più quindi è il prodotto quindi è quanto arriva questo prodotto quanto cambia la vita di tutti noi no allora se questo prodotto insomma no se il concerto alla scala arriva a 200 persone o a 300 o a 1000 persone insomma no e richiede un lavoro enorme dietro e richiede dei costi altissimi per la collettività e poi ci sono persone che fanno delle cose magari meno meno appariscenti no meno prestigiose del concerto alla scala insomma però insomma se il loro prodotto culturale è valido se fanno arrivare molte persone che magari non sarebbero mai arrivate a determinate opere che sono dei capolavori che sono dei fondamenti dei caposaldi della cultura e riescono a farlo anche con continuità riescono a farlo così e non se ne accorge nessuno nessuno valorizza queste persone la cosa non funziona ma soprattutto chi fa queste cose tra l'altro e qui anche mi cito è costretto a confrontarsi con una situazione di pericolo costante cioè non soltanto non viene favorito cioè non viene in qualche modo aiutato a farsi conoscere per quello che fa ma viene anche in qualche modo punito cioè si è con gli occhi addosso per dire guai se tocchi i diritti d'autore insomma guai se presenti se utilizzi qualcosa che è stato scritto 50 anni fa invece che 100 anni fa insomma quindi guai se fai cultura perché interpreti a modo tuo insomma e riproponi una cosa che merita di essere riproposta che arriva a tante persone non solo non ti diamo niente non solo ma anche non ti lasciamo lavorare insomma cerchiamo di proibirti anche di fare quello che fai se fai qualcosa utilizza soltanto cose che sono del passato insomma che non toccano quindi l'analisi come dire la rappresentazione del momento presente di quello in cui viviamo insomma non solo lo devi fare in maniera gratuita ma lo devi anche fare diciamo con l'occhio a non essere penalizzato per questo le grandi istituzioni no le facciamo andare avanti sono fondamentali sono indispensabili dobbiamo pagare per questo mettergli a disposizione le piattaforme dobbiamo fare in modo che tutto questo funzioni e che non si rimetta non ci si rimetta niente chi altro fa cultura e lo fa modestamente per conto suo cerca di non solo non gli diamo un quattrino che sarebbe troppo anche chiedere ma non lo facciamo non lo pubblicizziamo anzi lo mettiamo molto non lo nominiamo neanche insomma cerchiamo di tenerlo nascosto facciamo la pubblicità a chi facciamo la pubblicità ad Amazon facciamo la pubblicità a Storytel facciamo la pubblicità ai grandi supermarket insomma che si pagano poi la pubblicità insomma noi li facciamo non solo lo teniamo sotto quindi non non lo mostriamo non lo nominiamo non cerchiamo di e non parlo solo per me parlo di tutti gli altri che fanno cose di questo tipo no in maniera molto anche con costanza con un lavoro continuo con una con una dedizione particolare anche con delle competenze particolari insomma no ma li rendiamo sempre più servi della gleba che rimangano là nel loro posticino e che non tocchino i diritti i diritti acquisiti che non sono più neanche di chi ha fatto l'opera sono di chi se ne è impossessata sono degli editori insomma no sono di coloro che vivono delle opere degli altri e guadagnano sulle opere degli altri si arricchiscono sul lavoro altrui quindi chi fa il lavoro no quello rimane lì il lavoro intellettuale insomma l'opera questi sono i tempi in cui si sta vivendo quello che osservo è che come dire non ci si può aspettare niente allora la cosa che io chiedo per quelli come me almeno toglietegli l'ansia di sentirsi in colpa per quello che fanno cioè non vogliamo niente non è che vogliamo soldi dallo Stato riconoscimenti o cose così ma almeno lasciateci leggere nel mio caso insomma usare le opere prodotte in maniera libera senza vincolarci senza minacciarci come dire di farsi sparire di chiuderci il canale di minaccia che magari così non è che viene fatta continuamente in maniera diretta ma che sentiamo no tanti mi scrivono no vorrei anch'io leggere un libro eccetera eccetera ma non so come comportarmi con i diritti d'autore con il copyright no perché che cosa a cosa vado incontro se leggo un libro ad alta voce e lo metto su youtube insomma cosa mi può succedere ecco questa cosa di cosa mi può succedere no è una cosa pesante non dateci soldi se le cose che facciamo funzionano piacciono migliorano la vita di molti di voi insomma no come come anche parecchie persone ormai mi stanno scrivendo no cioè migliora la nostra vita è migliorata se possiamo ascoltare di sera una storia se possiamo avere il conforto di qualcosa a cui sappiamo di poter ricorrere anche una voce amica bene insomma questo migliora la vita insomma molte persone hanno conosciuto autori che non avrebbero conosciuto anche tramite il mio canale se questo è una cosa che può essere riconosciuta insomma basta leggere i commenti insomma no almeno non dateci soldi ma fateci vivere tranquilli fateci fare questo lavoro con tranquillità e dateci l'opportunità di poter mettere in scena anche le cose migliori insomma no di far sì che possiamo leggere anche le cose più interessanti che anche un lavoro di ricerca nostra possa come dire possa poi fare in modo che vengono proposte altrimenti ci troviamo ci troviamo anche noi sempre più in un vicolo cieco e sempre più preoccupati insomma cioè a doversi più preoccupare di quello che ci può succedere che non di quello che possiamo fare e di come anche possiamo migliorarsi in continuazione perché ci si deve anche migliorare insomma qualsiasi persona che lavora nel campo dell'arte in qualche modo cerca sempre di migliorarsi in continuazione ed adeguarsi anche ai tempi no allora questa è la richiesta insomma almeno lasciateci lavorare noi non vogliamo soldi abbiamo già risolto il problema della piattaforma di dove di dove collocarsi non abbiamo spese non abbiamo bisogno di personale di cose così facciamo tutto da soli ma almeno incoraggiateci insomma se proprio è incoraggiate incoraggiarsi vuoi anche dire semplicemente non fate non fateci vivere con una minazza governo rivedi questa cosa dei diritti d'autore insomma e soprattutto insomma anche per quello che riguarda la narrazione vedi se è possibile fare in modo che i diritti che riguardano la stampa e l'editoria non ricadano non vengono riassunti anche nell'uso che noi facciamo cioè nel senso che quando proponiamo gratuitamente un determinato libro questo fare nostro non sia sottoposto alla stessa legge dei diritti noi non riproduciamo non vendiamo un libro che ha scritto un altro a nome nostro e lo leggiamo lo proponiamo lo lasciamo alla gente insomma lo diamo gratuitamente noi facciamo soltanto un'opera di mediazione un'opera di mediazione che tra l'altro insomma nella gran parte dei casi fa sì che poi chi ascolta il libro letto da noi l'audiolibro vada a comprarsi il libro di carta e quindi facciamo anche una cosa che indirettamente va a favore di chi ha scritto quel libro o di chi vende quel libro degli editori che lo propongono insomma la cultura non è fatta dagli editori la cultura è fatta da chi produce le cose da chi ci mette la testa il pensiero il corpo e anche la voce effettivamente se la cultura è il centro del nostro interesse e non gli affari anche se poi la sopravvivenza delle persone che lavorano sulla cultura e anche questo è importante ma noi noi che stiamo qui nel web non vi chiediamo soldi non chiediamo niente al governo chiediamo soltanto che ci lasciano che ci lasciano fare che non ci diano che non ci dobbiamo assorbire anche tutto il peso del copyright del diritto d'autore c'è anche un altro vantaggio che può dare la piattaforma che può dare anche un social ed è quello di permettere un dialogo un contatto diretto tra chi fa qualcosa e chi assorbe intanto è immediato non ci sono tempi in mezzo il tempo tra quando si fa una cosa e quando questa cosa viene usufruita ma anche c'è uno scambio tra chi fa le cose e chi le usufruisce c'è un dialogo che intercorre c'è un rapporto interpersonale che che passa ed è importante questo ci si affeziona anche alle persone ci si affeziona a una voce ci si affeziona è migliore il clima quando si può contare su qualcosa quando alla sera ti può arrivare una storia e te la racconta una voce amica insomma c'è un rapporto che si crea e questo è possibile tramite i social poi come ho già detto perché la cosa non riguarda solo me e da questo punto di vista io ho già detto sono privilegiato perché ho fatto una vita di lavoro e adesso faccio questa cosa e posso vivere vivere di quello che ho costruito durante la mia vita di lavoro che per fortuna è svolta diciamo in un tempo buono nel periodo più lungo che abbiamo avuto senza guerra in un periodo di crescita sociale quindi insomma si è svolta forse nei tempi migliori che abbiamo vissuto durante l'ultimo secolo quindi posso contare su quello che ho costruito in una vita di lavoro ma riguarda anche molti altri che invece devono sopravvivere non tanto vivere ma poter sopravvivere di quello che fanno e che hanno come unica occasione i social essere presenti in una piattaforma poter farsi vedere poter far vedere quello che fanno e quindi arrivare a richiamare l'attenzione su di loro e a mettersi in una concorrenza che poi è abbastanza forte a volte anche un po' spietata quando si entra nei social con queste persone che sono costrette poi per fare cultura a utilizzare i social perché non trovano non riescono a entrare in nessun'altra entità che in qualche modo li assuma li paghi e riconosca loro quello che fanno ecco i social poi si impossessano di questi prodotti e loro non ricevono niente insomma l'unica entrata che hanno attraverso i social è quella dei proventi pubblicitari che come ho detto sono minimi se i numeri sono modesti un euro ogni duemila visualizzazioni tanto per dare una cifra che ho già data da questo punto di vista e questo sta succedendo in tutti ma anche nelle non so vedevo anche doppio zero è un progetto editoriale no profit vuol dire tutti quelli che fanno delle cose e non sono agganciati a un'azienda che sono no profit per sopravvivere in questo mondo dei social hanno bisogno del contributo di chi usa queste cose un contributo anche minimo anche modesto ripeto anche doppio zero chiede per poter sopravvivere una piccola sovvenzione un piccolo contributo insomma chi usa queste piattaforme deve capire che non c'è altra forma altro modo per poterle mantenere in vita perché molti poi chiudono no molti arrivano a un po' discritti e poi provano a fare qualcosa magari lo farebbero anche molto bene ma non succede niente e chiudono per poter monetizzare anche su youtube non si comincia da niente insomma bisogna avere almeno mille iscritti bisogna avere almeno mille quattromila ore di visualizzazioni in un anno che non sono facili da raggiungere e poi andare avanti anche perché gli inizi sono sempre molto difficili no bisognerebbe entrare nella mentalità come chi produce anche software in qualche modo come chi tutti ormai insomma tutti coloro che fanno che mettono in rete dei prodotti che li danno ad uso gratuito hanno bisogno per poter andare avanti per poter fare quello che fanno perché nessuno fra proprio niente niente per niente cioè non soltanto fa niente ma ci sono dei costi per fare le cose almeno rifarsi dei costi insomma cioè non pagare è una necessità insomma è un è un bisogno di sopravvivenza allora bisogna capire cioè dobbiamo capire che in questo mondo di social in cui la cultura sta modificando i luoghi la presenza se vogliamo ancora poter avere dei luoghi dove la cultura è anche cultura non solo intrattenimento non solo svago non solo stupidità porcherie trasgressione se possiamo avere ancora dei dei luoghi di questo tipo dobbiamo preoccuparsi di mantenerli in vita e per mantenerli in vita dobbiamo essere responsabili insomma dobbiamo pagare un piccolo contributo nostro cioè avere un minimo di impegno rispetto a queste cose per poterle fare vivere se ci interessa che vivono se abbiamo da queste cose qualcosa è la stessa cosa che si realizza nei confronti delle persone no cioè se io ho un nonno di cui mi voglio prendere cura di cui devo prendermi cura e mi interessa che questo nonno stia bene che viva che purtroppo io non ne posso più adesso già nonno io ma insomma se sei una qualche persona anziana inabile o bambino insomma dobbiamo prendersi cura insomma dobbiamo cercare di fare qualcosa per lui che anche a volte è anche un piccolo costo insomma no cioè un piccolo costo del nostro tempo un piccolo costo nel fargli un piccolo regalo nel soddisfare certe sue esigenze insomma no soprattutto anche magari un costo di tempo perché la cosa poi più preziosa che possiamo dare è il nostro tempo però sappiamo che ci dobbiamo responsabilizzare nei confronti di quello che chiamiamo delle cose che che ci che ci danno qualcosa insomma no in termini di in termini affettivi o in termini anche proprio culturali di interesse insomma ecco per cui questo secondo me insomma dal punto di vista del governo noi che stiamo su YouTube o che stiamo sui social sulle piattaforme insomma no possiamo anche non chiedere nulla non chiediamo finanziamenti non chiediamo stiamo qui e sfruttiamo e ci siamo anche in un momento in cui le altre strutture non possono esserci cioè in tempi di lockdown noi siamo qui e mettiamo e postiamo insomma mettiamo in rete tutto quello che possiamo non chiediamo finanziamenti io almeno insomma non si chiedono finanziamenti al governo non si chiede di essere mantenuto in vita non andiamo in piazza con i cartelli possiamo chiedere una cosa rivedete la questione dei diritti d'autore insomma rivedetela e aggiornatela almeno per quello che riguarda gli audiolibri ma anche per la letteratura in generale insomma prendiamoci conto che 70 anni dalla morte dell'autore è un tempo lungo è un tempo che può diventare anche più di 100 anni da quando il libro è stato scritto e 100 anni sono in questa società che questi tempi insomma di trasformazioni rapidissime sono un'eternità insomma rendetevi conto insomma avete la possibilità di modificare di migliorare questa legge sui diritti d'autore oppure le lobby vi impediscono di farlo e allora siete un po' dei servi delle lobby ma se non siete dei servi delle lobby magari cercate di modificare questa queste norme che sono abbastanza giuste no? favoriscono non chi la cultura la fa ma chi la cultura la vende ed è una cosa diversa è una cosa diversa pensateci quindi nei confronti del governo chiediamo questo nei confronti di chi ci segue e parlo a nome di tutte le piattaforme di chiunque insomma ormai perfino i giornali devono usare o vengono in rete insomma e in rete non è che si offrono gratuitamente anche perché la pubblicità non copre più di tanto e anche i giornali hanno dei costi hanno delle persone che devono pagare devono fare e quindi insomma anche loro richiedono abbonamenti richiedono contributi sovvenzioni insomma sappiamo sappiate insomma che nel mondo della rete che si offre come un mondo del tutto gratuito in realtà chi fa cultura e che quindi ha per definizione visualizzazioni scarse visibilità ridotta a meno che non sia poi sovvenzionato appoggiato a grandi a grandi mass media insomma visibilità ridotta perché l'interesse per la cultura per definizione riguarda una minoranza rispetto a quella che è la distrazione di massa rispetto a quello che bene insomma per vivere per sopravvivere per andare avanti per continuare a proporvi cose sempre nuove ha bisogno di un minimo contributo da parte vostra minimo però ha bisogno di questa responsabilizzazione insomma dovete prendervi cura e prendersi cura insomma è una è una parola che secondo me deve tornare insomma fa parte del nostro vivere e della nostra responsabilità nei confronti della vita e di quello che ci rende migliore la vita una buona giornata un'altra che è una è una